E veniamo all'argomentazione più insidiosa. Alla decisione di prorogare lo stato d'emergenza sono stati attribuiti significati di ogni tipo, sino a prefigurare, per carità, in qualche caso isolato, la volontà di ricorrere a questo strumento a solo scopo di preservare, in capo al Governo e in particolare al Presidente del Consiglio, poteri ex ordine, ma suscettibili di alterare, tanto più se esercitati in assenza dei legittimi presupposti, l'ordinaria dialettica democratica, fin anche il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo. È stata fin anche sostenuta la paradossale tesi, tesi giuridica, secondo cui sarebbe stato più opportuno procedere in tutta questa pandemia, anche nella fase più acuta, con ordinanza del Ministro della Salute. Come sapete che c'è l'articolo 32 della legge istitutiva del nostro sistema sanitario nazionale, la legge 833 del 1978, ritenendo quindi che il ricorso alle ordinanze del Ministro della Salute fosse più garantista, più rispettoso dei presidi democratici, rispetto al percorso che hanno eseguito. Come sapete abbiamo adottato norme di rango primario, attraverso lo strumento del decreto legge, conseguentemente poi abbiamo emanato decreti del Presidente del Consiglio che, se solo considerate anche il processo di formazione, sono assistiti da numerose garanzie, ben superiori a quelle che assistono alle ordinanze contingibili e urgenti, come le chiama la legge, quelle che sono previste dall'articolo 32 citato della legge del 1978. E questo anche sotto il profilo della condivisione delle scelte, perché nel caso del DPCM, è previsto il coinvolgimento di tutti i Ministri competenti, anche delle Regioni, come pure l'obbligo, che poi è stato introdotto con decreto legge 19 del 2020, di informare preventivamente le Camere. Ecco, questa accusa di volere evidentemente prorogare lo Stato d'emergenza per giovarsi di poteri extra ordinem è frutto di un evidente equivoco. La proroga dello Stato d'emergenza non incide sul potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare decreti. Lo Stato d'emergenza è un presupposto di fatto, ma non la fonte di legittimazione formale che si rinviene invece, l'ho già detto, nei decreti legge, quindi nella normativa di rango primario. Il potere di adottare il DPCM è al momento correlato alla data del 31 luglio, termine di cessazione dello Stato d'emergenza, non in ragione quindi di una formale connessione tra DPCM e Stato d'emergenza, ma perché questo espressamente prevede la fonte di rango primario legittimante, la quale peraltro avrebbe potuto anche disporre diversamente. In altre parole, qualora il Consiglio dei Ministri adottasse la delibera di prologa dello Stato d'emergenza, non per questo il Presidente del Consiglio sarebbe autorizzato a emanare un DPCM, non per questo. Il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri non deriva dalla dichiarazione dello Stato d'emergenza, ma si radica nella normativa di rango primario e la dichiarazione dello Stato d'emergenza costituisce, possiamo convenirne, il presupposto di fatto, il requisito sostanziale, ma non potrebbe in alcun modo legittimare di per sé l'adozione dei DPCM se non fosse affiancata, ripeto, da una fonte abilitante di rango legislativo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.